buongiorno e benvenuti in un nuovo blog e benvenuto a tunno mamma mia ragazzi c'è un tempo di che buca giulata non si dice perdonate c'è un tempo bruttissimo ragazze poi piove tutti vanno di fretta infatti abbiamo dovuto cambiare strada perché c'era un incidente sulla spesa ma ci va parola infatti dal ponte ho visto proprio non so se era un furgone o una macchina proprio sotto sopra ragazzi un'impressione bruttissima quindi mi raccomando quando piove andate piano con la macchina mi raccomando niente ragazzi noi stiamo tornando a casa siamo andati a fare un pochino di spesa questo è quanto quindi noi ci aggiorniamo appena arriviamo a casa cristiani è preso alla guida ragazzi che quando piove bisogna stare molto attenti ci vediamo tra poco ragazze eccoci tornati a casa ragazze faremo anche questo mini svuota la spesa così inseriamo anche questo come prima cosa cristiani bentornato allora facciamo rileviamo questo bentornato a lui il maritozzo panna e perciò già questo inizio di blog e merita e dove c'è un like poi ragazzi sono passata da te zenis perché sto diciamo rinnovando l'intimo ho preso un altro reggisela l'ho preso nero sempre uguale adesso l'ho preso bianco poi lo prenderò anche color carne diciamo voi dite perché non li vedo insieme non ci fate caso solo così comunque questo modello qui preso bianco mi sa che ci faiate pure a prendere perché questo qua non si toglie questi mannaggia me va bene non fa niente si lo potrei anche cambiare però vabbè comunque preso questo e ho preso un po ragazzi sono passata da obs che c'è lo stand di essenz ho preso un altro pennello questo qua che sono ottimi come li consiglio e pennelli di di essenz questo è sempre da sfumature piccolino e poi ho ripreso oddio la matita questa acqua penna per le sopracciglia che mi sto trovando benissimo come sapete faccio il vino diciamo questo punto qua con la matita di shane poi utilizzo questa qua io ripreso sempre la 02 medium brown e basta ragazzi ho preso questo mannaggia me che non ho visto si penso di sì perché si no perché ragazzi io uso quello anche che si tolgono le spalline perché comodo quando c'è una maglia comunque che non vuoi far vedere bretel lo metti a fascia e al due utilizzi praticamente vabbè non fai il lucagno pace tanto ne che devo mettere nuove comunque poi tanto puoi andare anche a livercorp se ci va in settimana non ti dimenticare lo scontrino va bene veniamo ma perché vedo non lo so boh se ho fatto un casino con sta videocamera ma perché non la vedi bene ma non lo so anche a parte che è storto aspetta ok veniamo ragazza lui allora cristiano per oggi mangerà dopo vi faccio provola insalata pomodori mangeremo un po insieme comunque poi pomodori gialli poi abbiamo preso le uova queste qua bio le prendiamo bio perché le facciamo occhio di bue o dipende come ci va perché voglio spiegare l'occhio di bue visto che non si cuoce proprio totalmente al cento per cento cerchiamo sempre di piano la bio che poi secondo me non lo so quanto sia buona come già poi abbiamo preso questi qua per francesco nesquick le barrettine poi ragazze ci siamo presi un come si chiama la tagliata tagliata ehi mamma mia questa qui che domani la facciamo poi me la metti sulla mantenda la maglia si 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 poi ragazzi vabbè ho preso queste qua per me sono integrali queste qua tipo crackers me li mangiamo comunque anche oggi a pranzo vabbè dopo vi faccio vedere poi pomodori non erano proprio ottimi questi erano i migliori forse che c'erano preso il tonno normale diciamo all'olio questo qua poi preso un'insalata per oggi a pranzo sacchette della spazzatura questi qua sono ottimi poi abbiamo preso ragazze la zucca perché domani farò un bel risotto alla zucca perché prima avevo deciso io devo fare sotto no perché poi ho deciso la zucca perché visto che il tempo fuori piove 16 gradi c'è una tristezza infinita perché non ne anticipare i tempi con l'autunno c'è la zucca come di perde questa mo la buttiamo perché è caduto il diciamo il sangue dentro della casa e poi l'origano l'origano poi abbiamo preso visto che noi la domenica ci ubriamo l'avevano già comprato l'origano non sta a guardare se c'è non c'è ma ti vedete conto poi abbiamo preso una bella bottiglia di vino questa qua a sisi rosso questa oggi me la io bevo poco è mezzo bicchiere di vino questo si chiama tignoso come lei non è la tignosa come lei poi ragazzi ho preso lo smac questo qua non ho trovato quello la spray non lo trovo a me mi serve ce n'ho pochissimo devo guardare forza a me che sto ce l'ho cotto io no lì dove andiamo ormai non c'era più questo quello la spray poi abbiamo preso il pane questo qua per per christian ma questo ma comunque sto panno deve essere proprio buono ciambella rustica di semola p poi poi abbiamo comprato provolone piccantino provolone piccantino mamma come profumo ragazzi io vado matta per i formaggi mi piacciono tantissimo che cos'è non lo so festa del pesce poi abbiamo preso il riso che è quasi terminato ma io poi devo dire un'altra cosa un paio di mesi fa mia moglie ha fatto comprare il riso nero ma guardate che cristiano è tremenda me lo mangio ma quando lo fai che se quello non lo fai in estate ma non è che può fare risotto ma che ne sai tu ma perchè non l'hai ma non è ma secondo te ma pasto tu e' mo' si però io già quando l'ho comprato io ho nella mia testa che se quella rimane là chiuso non mi preoccupate ho mangio allora faremo un vlog dedicato quando pasto riso nero perciò sicuro si può cuocere normale come tutti i risotti ma chi si cuoce normale 2 pacchi di parmigiano padano poi per moi smettila ho preso yogurt milk come si chiama kaffir questo qua due erano in offerta ragazze poi la maionese house non erano in offerta dato che li ha presi quando mi ha assenza ma no 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 ma no 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 ma sono tutelata teee vedete allora ragazze lei è la vera juisi no? quella dolce e bella e delicata lei poi per finire due confezioni di latte che si comprano e uno no io ne hoprimiate due perchè io lo bevo in latte e poi tu bevo in latte due confezioni a posto questa mamma soccuzzano reggisena un po' nermosetta signora è come il tempo vedi è ungiosa va bene ci vediamo tra poco fermata smettila ma come faresti come farebbe senza di me ragazzi ci vediamo tra poco poi mi farei con che cazziamo eccoci qua Cristiano sta girando l'insalata a mezz'ora ho detto tutto cioè mi sto girando e stavo aspettando lui che gira sta insalata sta insalata e poi fa mi sa che ho messo un po' di sale in più tu devi vedere dato che tu con questo no ascoltami dato che con questo non riesci a misurare bene prendi il sale quello sfuso e fai così guardate qua guardate qua che pranzetto mio guardate ditemi sotto ci sono due fettine di pomodoro tonno e un pochino di insalata non ho messo sale ho condito il tonno con un po' di salsa di soia voglio un po' di toia allora io mangio lui mangio anche lo sto a dietro insalata insalata ma si vede da qua allora mi mangio la provola poi una fettina di salmone con l'olio e l'acetola ho condito no proprio del limone pomodorini con l'origano un po' brutti che si è preparato tutto io il dolce no ragazzi volevo dico la verità volevo con la crostatina con la frutta non l'hanno fatta vabbè non ho voluto prendere altri dolci troppo ancora no vabbè sto parlando solo questo è il pottalate tu mangi prego prego è molto buono comunque quanti belagli sono che si è patologici soccante proprio ci vediamo dopo noi mangiamo e ci vediamo dopo vediamo dopo venite a prendere il dolce il caffè il caffè a dopo ciao allora da quanto tempo che non lo mangiavi questo è stato buonissimo è buonissimo guardate invece il mio dolce cioccolato un pezzettino di cioccolata 72% però devo dire che cosa non mi piace panizzare se andrò a finire e mangio la smetti la cioccolata sempre il dolce certo quindi è più soddisfazione molto buono è buonissimo va bene ma è molto buono buono eh sì 1,50 euro non costa tanto pensa che per me il buon colore quello con la crema è una panna non c'è più grande è bella è bella è bella mi piace a lui ora solo capito dove lo mette c'è la nuvella eh c'è vuoi un po' guarda che è tremendo siamo davanti al bancone dai figlia vuoi questo vuoi questo vuoi... vuoi... potaccione una volta settimana c'entra però a parte che non mi andava che desideravo quella con il mio dolce preferito cioè non è il mio dolce preferito al tiramisù partiamo da questo fatto bene se no come seconda opzione prendo la crostatina quella con la crema e la frutta perché come la fanno lì mi piace tantissimo non hanno fatti ma se ci vedete cosa faccio mi sto sporcando tutto ma è benissimo sporcaccione va bene ragazzi tanto ci aggiorniamo poi ci vediamo dopo che per voi poi la cosa bella è che un attimo quella è la cosa assurda sì perché noi ci vediamo dopo no però per loro come finisce incomincia l'altra clip capisci va bene mi sento in giro va bene bello mangiare allora ragazzi viste che mi sono stoccata volevo farmi la maschera faccio una maschera viso questa qua nata si chiama sempre da ticota questa è ad alta idratazione scritto qui con pantenolo e olio di avocado e quindi metto questa qua anche questa per 15 20 minuti e infatti anche questi mi sembra che bisogna tenerli si 15 25 minuti ma io li tengo 15 minuti sono qui dentro eccoli qua no devo dire che aderiscono molto bene questi perché chi è già le ho fatti uscivano due all'interno ok stupendo quindi questa messa adesso mettiamo la maschera a mezzo brutto ok speriamo da le lisce che non si muove 4 lanza stacca ok ok adesso dovrò vedere l'orario e così poi dopo lo andiamo a togliere così nutriamo un po la pelle ciao mi sembra un po' ma questi denti di bianche ma come ride lui volevo fare lo scherzetto a cristian ma si muove tutta che pizzo mannaggia vabbè comunque non si è spaventata ragazzi che mi è abituata ragazzi la maschera devo dire che mi ha lasciato una pelle veramente bella morbida e bella nutrita me la sento veramente mi piace poi pensate ho messo solo dopo il contorno occhio ovviamente e sono andata a mettere quel siero quello là di essence quella la maschera mi piace tantissimo perché comunque è un siero molto idratante per la pelle e quindi ho messo solo quello non ho messo la crema e mi sento veramente cioè non mi sento la pelle secca ecco comunque sto anche facendo facendo merenda con questo yogurt proteico che avevo fatto anche già vedere l'altro già l'ho mangiato sto mangiando questo devo dire che mi piace molto infatti li ricompro e poi un'altra cosa sto pensando di fare un acquisto adesso vediamo un po' di comprarmi il tapis roulant così ho detto quest'inverno invece di andare in palestra mi compro il tapis roulant e me la palestra me la faccio a casa così che ne so mentre cammino mentre posso anche nel frattempo cucinare perché qua mi piace se no quando vado in palestra tutta una corsa ai ragazzi che lavori e torni e poi prepara il palanzo e prepara pure la cena perché poi se devi andare in palestra quindi è molto stressante e quindi ho pensato a questa cosa e credo proprio di comprarmelo adesso vediamo un po' verso settembre ottobre se riesco lo compro e ovviamente voglio uno pieghevole e che non costi tanto e quindi stavo pensando a questa cosa credo che quest'inverno farò così mi allenerò in casa stasera usciremo con i nostri amici quindi dopo casomai se riesco mi truccherò proprio con voi nel video senza che farò video a parte e quindi mi truccherò con voi dove proverò anche la paletta la palette quella di Nabla che vi ho fatto anche già vedere io l'ho usata anche già stamattina ragazzi è bellissima la voglio usare anche stasera userò anche la BB cream di di Astra purtroppo ragazze non ho trovato la cipria ma va bene non fa niente useremo quello che ho così proviamo un po' anche di cose insieme e niente ragazzi adesso mi finisco il mio yogurtino e poi tanto ci vediamo dopo quando mi devo poi penso preparare dici aggiorniamo più tardi a dopo allora ragazzi sono qua pronta che mi devo cominciare a preparare a truccare ovviamente allora vi farò vedere diciamo solo i passaggi dei prodotti nuovi così almeno se no il video verrebbe troppo lungo quindi adesso vado a mettere prima il il correttore e poi anzi come prima cosa facciamo così metto il lip questo qua il volumizzante di Astra così andiamo a vedere insieme come diventano le mie labbra queste sono le mie labbra adesso ovviamente e adesso lo andiamo a mettere ok coloro appena appena ma adesso andiamo a vedere la trasformazione delle labbra allora quindi vado a mettere il correttore e uso questo qua di Astra che è un pochino più aranciato per andare un po' a correggere questi occhiaie ok ragazze adesso vado a mettere la BB cream questa qua di Astra io già l'ho utilizzata stamattina e devo dire che mi è piaciuta e della mia colorazione diciamo di adesso tra un po' ovviamente non la potrò più utilizzare io ne metto così per adesso e la stendo con la spugnetta perché comunque stamattina ho fatto così poi voglio provare anche a stenderla con il pennello perché io ho visto il video di presentazione di questi prodotti e il truccatore il makeup artist che truccava la ragazza lo faceva con il pennello e quindi sono curiosa perché comunque la spugnetta ragazze diciamo si mangia tanto prodotto guardate già le labbra come cominciano a cambiare la pigmentazione delle labbra sono un pochino più rossicce diciamo e comunque adesso si avverte un leggero pizzicore ma è sopportabile vado a mettere un altro po' allora questa è diciamo l'effetto che fa sulla mia pelle la BB cream e devo dire ragazzi che a me piace tantissimo perché come vedete è proprio effetto seconda pelle è un pochino lucido non è un finish matto e devo dire che mi piace perché guardate è proprio la stessa colorazione della mia pelle adesso e quindi mi piace veramente tanto e non si sente assolutamente sulla pelle molto leggera veramente a me piace tantissimo proprio top adesso vado sempre nel contorno occhi con un altro correttore questo qui di Wicon un pochino più chiara per andare un pochino comunque ad illuminare ok adesso ragazzi vado un attimo a fare le sopracciglia e arrivo su ok sopracciglia fatte così almeno mi vedo meglio ragazzi guardate le labbra c'è incredibile stupende proprio in effetto a me piace tantissimo ovviamente c'è ancora si sente ancora il pizzicore però sta incominciando piano piano a svanire allora adesso vado ovviamente a mettere un po' di cipria e uso questa catedermocura che comunque è un pochino colorata così non vado ad alterare la BB cream allora purtroppo la cipria come sapete già ve l'ho detto non l'ho trovata spero di trovarla perché comunque per il contorno occhi mi piace molto almeno da quello che ho visto dei video di presentazione allora adesso voglio fare prima gli occhi vado ad usare la dream di Nabla questi qua intanto già ve l'ho fatti vedere sono i colori sinceramente non so che cosa vado a fare vediamo un po' come prima cosa ovviamente vado a mettere un po' di primer questo qua di Astra allora prendiamo un pennello da sfumatura prendo questo qua di Essence e vado a prendere lullaby questo qui che è un tortora e vado sulla linea di transizione bellissimo questo colore e poi vado con Metal Cupid questo qui che è stupendo ragazze lo applico con il popastrello è bellissimo stupendo ragazze questo colore poi all'angolo esterno dell'occhio con il pennellino che ho comprato stasera vado di questo qua che si chiama Dogma questo qui che è un marroncino e vado all'angolo esterno riprendo il pennello questo qua di prima e sfumo bellissimo riprendo il colore quello là di prima bellissimo ragazze ok all'angolo interno dell'occhio vado a metterci questo qua uno shimmer immaculate come si chiama mi sa anche stamattina mi era piaciuto tanto bellissimo c'è comunque un po' dell'oro all'interno stupendo riprendo di nuovo lo shimmer vado a ripassarci sopra ok vado a riprendere il primo colore e sfumo ok vado anche all'arima inferiore dell'occhio prendendo un pennellino piccolino e prendo questo qua e prendo il colore questo qua più scuro lo sfumo ok ragazzi nel frattempo ho fatto anche l'altro occhio adesso ho preso questa matita marrone e vado sia la rima inferiore diciamo all'interno dell'occhio ok e vado un pochino sopra tra le ciglie diciamo ok adesso prendo il piegaciglie metto il mascara e allora ragazzi sto mascara qui di Shane di è fantastico fa delle ciglia bellissime mi piace veramente tanto cioè io sto usando solo lui ormai ho accantonato tutto e uso veramente solo lui perché mi piace tantissimo ma comunque adesso vado a fare un pochino di contouring con questa qua di essence e prendo ovviamente questo qua un pochino più scuro con il pennello questo qua un pochino angolato ok poi ragazzi come blush prendo la palette questa qua questa di make up revolution di della disney aladdin e vado a prendere penso più questo qui che mi piace molto di più come ci sta ovviamente con il trucco occhi poca ragazzi perché sono molto pigmentati bellissimo ok no vado a prendere prendo un altro illuminante prendo questo qua di the balm il merillumanizer che è questo qua ragazzi è uno dei miei preferiti in assoluto è stupendo ragazze ok vado a togliere ovviamente il volumizzante che ho messo cioè guardate le labbra sopra vedete come sono più rimpolpate e anche comunque diciamo aumenta la pigmentazione delle labbra e vado ragazzi ad utilizzare la matita questa qua di Astra io avevo preso la 02 è bellissima l'ho messa anche stamattina bellissima ragazzi questa matita ovviamente non è neo cioè non è si trasferisce non è una matita che rimane lì però mi piace molto e niente questo è il trucco che abbiamo fatto cioè che ho fatto adesso mi preparo e ci vediamo tra poco allora eccomi qua sono pronte ragazzone ho fatto un pochino i capelli mossi ma giusto un pochino giù adesso vi faccio vedere il mio outfit ma per chi mi vede lontano allora mi metto così sperando che si vede allora ragazzi stasera andiamo di giacca perché è freschino infatti ho messo il jeans con le scarpe questi qui e il toppino questo qua che avevo preso da Tezenis devo dire che è molto carino anche da sotto la giacca è carino comunque vi faccio vedere meglio perché di qua si vede meglio ok ho messo queste due collanine i capelli sono venuti abbastanza bene non li ho mossi cioè non li ho toccati proprio ci ho messo la lacca sperando che tengono perché a me non dene una cippa e poi ragazzi poi dopo sopra alla matita sono andata a mettere questo qua che avevo fatto vedere che avevo preso questo rossettino che comunque c'ha un po' di glitterini e devo dire che mi sento ancora le labbra belle rimpolpate molto bello allora adesso spengo qui spinta ma piglio pure la borsa scusate qui c'è anche Cristia salve tu sei pronto? sono pronto ma dobbiamo scendere sì noi tanto ci salutiamo dopo o domani va bene? un baciuli ciao buongiorno come vedete il giorno dopo sono tornata a me stessa perché noto anche io il cambiamento quando mi trucco mi preparo a quando sono normale va bene ragazzi adesso aspettiamo Cristian che arriva per chiudere ovviamente questo video perché se no verrà lunghissimo spero di no buongiorno dove vai? scendo senza dirmi niente così si prepara questo scende dove vai? va da papà prendi il dolcino vuoi il dolcino? no non lo voglio non lo so ce lo voglio o non lo voglio decidi lo voglio però non ha una cosa troppo pesante vedi tu dai non troppo pesante niente ragazze allora noi vi vogliamo salutare pesante mamma mia sperando di avervi fatto compagnia quindi sponiciateci un pollice su se vi va iscrivetevi al canale seguiteci su instagram mi raccomando ci vediamo presto in un nuovo video ciao 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 ciao